Mentre ascoltavo sulla questione della conoscenza, non ho solo una parola perché poi devo allontanarmi. Sai una cosa, io ho imparato per esempio in questi giorni, adesso sembra una sciocchezza, perdonatemi, a come lavarmi le mani. Quando mi lavate le mani, voi che fate? Cioè nel senso, io ho sempre fatto una vita intera, mi lavo le mani, chiudo il rubinetto e mi asciugo le mani. Sai che è sbagliatissimo? Perché toccando il rubinetto che tu rischi a volte, insomma, di passare batteri, eccetera. Cioè, no, 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 devi lavarti le mani, prendere il fazzoletto, insomma, con cui ti asciughi e con quello chiudere il rubinetto. Allora, io, scusate, adesso, sembra una sciocchezza, sembra una sciocchezza, però la conoscenza... Che è stato l'ipocondria, che è a fodero, qualunque bagno di carta ovunque, adesso però con questa del rubinetto sarà un inferno. Ma guarda, credimi, cioè, me l'ha detto un medico e sono rimasto... Però vedi, la conoscenza, adesso è una sciocchezza, mi rendo conto, ci sono cose molto più importanti, però anche i piccoli gesti quotidiani ti aiutano a volte a evitare quelle paure che magari ti vengono in modo inaspettabile. Va bene, io questa me la segno. Bene, posso allontanare, scusatemi. Scusate, buon lavoro.